Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiadi di successo includono una chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione, un sostegno costante da parte di tutti i settori e la migliore esperienza possibile per gli atleti. Cortina Milano soddisfa tutti questi criteri. Si scrive report del CIO, si legge promozione su ogni fronte e, con tutta probabilità, la vittoria della candidatura Veneto-Lombarda. Scongiuri legittimi anche perché la decisione finale arriverà a Lausanne il 24 giugno, ma due indizi fanno una prova e il rapporto del Comitato Olimpico sulle avversarie in Lizza parla chiaro. Cortina Milano dà garanzie, Stoccolma no. In queste ore la pubblicazione della commissione di valutazione guidata da Octavian Morario che tra il 2 e il 6 aprile visitò la nostra regione. 47 pagine su Cortina Milano e diversi punti chiave. Primo, il sostegno. Unito a tutti i livelli, scrive il CIO, governo, settore privato, società civile, nonché una percentuale elevata di sostegno pubblico. 83% contro il 53% degli svedesi. Secondo, le possibilità di successo. I giochi, scrive la commissione, rappresenterebbero una vetrina per il Nord Italia, con luoghi iconici e bellissime ambientazioni che si estendono dal centro storico e le piazze alla moda di Milano fino alle vette e i villaggi di montagna delle Dolomiti. Terzo, strutture e sostenibilità. Scrive ancora il CIO, Cortina Milano propone giochi a basso costo pienamente in linea con l'agenda 2020, con il proposito di usare il 93% delle sedi di competizione già esistenti o temporanee. Dall'altra parte c'è Stoccolma che, annuncia il CIO, ha deciso di non firmare il contratto come città ospitante, dichiarando di poter affittare le strutture sportive necessarie per i giochi, ma soprattutto gli svedesi devono ancora presentare le garanzie vincolanti per le nuove strutture, il villaggio olimpico, l'ovare per il pattinaggio di velocità e le sedi del biathlon e dello sci di fondo. Insomma, è luce verde, ultimo chilometro prima del filo di lana e Cortina Milano guarda la sua avversaria staccata dietro le spalle.